Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Sono qua a Feneliguria a pedalare e in realtà è la prima volta che vengo qua dopo due mesi e mezzo più meno e oggi sono anche in dolce compagnia di Francesca Locchini qua in fuga qua davanti a tutta. E niente, facciamo qualche sentiero, vi porto qualche bel video dei sentieri qua sul canale e spero che vi piaccia. Siamo arrivati in base Nato e adesso andiamo, come il primo sentiero abbiamo scelto questo, un classico base Nato, probabilmente uno dei più belli, più scurevoli qua a finale e le condizioni mi sembrano molto buone anche dopo tutto questo tempo di inattività diciamo. La bici va un gran bene, divertentissima, scorre su tutto, qua il berri e la curva. Molto molto bello, che figata però, passare negli poveri sentieri scarsini di Valanze a questi trailer costretti veramente per andare in bici. è vero, passa sopra tutto, spettacolo. Sì, è vero, thor, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Che bello ragazzi, divertentissimo. Ti sei fermata proprio in mezzo al sensiero. Ciao. 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 pausa pranzo doc in cima a questo tetto invasenato cosa abbiamo qua risotto top fatto io fatto lei sicuro abbiamo quel dolce pronto per dopo a coppia da bere un po di sapone sempre bene abbiamo la frutta e cosa volete di più iscriviti al canale A presto. No, 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 no. Dopo mangiato, prima discesa, abbiamo deciso di rifare quella di prima perché era davvero davvero bella, messa bene, divertente ed è perfetta per un ritorno all'enduro e ai sentieri dopo il lockdown. Yeah, brava, brava! Come è gasata la Francia oggi! Non la ferma più nessuno! Nelle pietre non c'ha paura, quindi è fantastico! Secondo me va molto meglio di molti maschi, di molte persone, quindi complimenti! Se c'è qualche ragazza qua sul canale che la vuole seguire, si chiama FranciaL29 e niente, e niente, lei è sempre gasata dal parquet per fare qualche giro di fischi in compagnia. E' come calda! Tira su per fare salti ovunque! Te lo faccio io! Niente male, niente male, Franci! Sì, tu? Sì! Eccoci arrivati in cima alla terza di salita, siamo pronti per il terzo sentiero di oggi, che sarà una novità, un sentiero nuovo che hanno costruito qua a finale, e non l'ho mai fatto e vediamo un po' com'è. Ciao! Prendiamo il sentiero Margò, la deviazione dovrebbe esserci tra poco sulla nostra destra. Margò è sempre bello, sempre sempre bello. Un po' stretto ma molto divertente, e la deviazione dovrebbe essere qua, il nuovo trail, credo che sia questo, mentre Margò proseguiva a sinistra con due curve un po' toste. Uuuu, terra fresca! Un pezzo molto scorrevole, carino, sempre molte compressioni in questa zona ci sono, qua sotto a sinistra abbiamo Margò, ci siamo molto vicini. Allora, scorre abbastanza, divertente sì sì, complimenti Ivo, per un altro sentiero molto carino. Uh! Tra l'altro adesso è iniziato a piovere, quindi meglio se corriamo la macchina. Qua è un po' tosto, un po' stretto tra gli alberi, doppia linea. Uh! Doppio delle fasce così alla prima, non male. E questo invece è il vecchio sentiero, che comprende sia Margò che Uribago. E finisce qua, sopra Fellino. Ciao belli, oggi le faccio io le conclusioni. Vai vai, di qualcosa allora. No! Niente, oggi giro carino, non tanto lungo, tre sentieri belli però ci voleva dopo due mesi senza sentieri o di sentieri mediocri. Quindi felicissimo davvero. Spero che il video vi sia piaciuto, abbiamo fatto delle riprese un po' diverse. E niente, quindi fatemelo sapere nei commenti. Iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto. Salutate Francesca e ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Ciao! Ciao belli! Ma sei sicuro? Di cosa? Che quella è la tua conclusione? Questi sono tutti i video che poi cancellerò appena arrivato a casa. Sì, giusto così per farti perdere un po' di tempo e per farlo stare un pochino di più al computer. Grazie a tutti! Grazie a tutti!